So che hai un affare da proporre. È un biglietto per la Sicilia. Ma chiunque non è che in vacanza? No, non vi sto portando in vacanza. Io vi voglio offrire una casa. Visto che pare che non ce l'abbiate più. Però è una casa grande. Grande come tutta quanta l'isola, è solo che prima dobbiamo conquistarla. Fammi capire. È una cosa tipo lo sbarco dei mille. Ma chi le nage ha fatte cariballe? Che diamo a fare? Io non sono venuta qui per farvi ridere. Ancora con questo vuoi? È che il vuoi dalle mie parti è segno del rispetto. Proprio quello che il vuoi non mi state portando. Ma tu sei venuto a casa e imparare regola a casa nostra? Amorina, va.